Il Bari ha ancora l'elettroencefalogramma piatto e cade 3-0 sotto i colpi di una Turis che senza strafare porta a casa la salvezza e condanna a soffrire la formazione bianco-rossa. Primi 20 minuti così così, ultimi 70 imbarazzanti per una squadra che deve lavorare tantissimo per non fare bruttissime figure ai play-out. Nel 3-4-3 del rientrante Auteri ritrova a posto Dursi, Sabbione gioca al centro della difesa, Rolando fa l'esterno sinistro. Prima occasione per il Bari al nono, con Dursi che riceve dei 20 metri e prova una conclusione che termina la sua corsa sopra la traversa. Al minuto 20 passano i padroni di casa, Pasticcio di Sabbione a centro campo, la Turis sulla ripartenza va a destra da D'Adalt che mette in mezzo un pallone che D'Ignazio spinge in rete anticipando un rivedibile semenzato. Al 40esimo il Bari potrebbe pareggiare, azione di Maras che serve Antenucci, di nuncio riesce a rimediare ma la sfera torna ancora sui piedi del 10 del Bari che calcia debolmente e a bagnale blocca senza problemi. Nella ripresa entra Cianci per Perrotta, il Bari si mette 4-2-3-1 ma non punge, al quinto raddoppio dei Corallini sugli sviluppi di un corner, la formazione di Auteri non riesce a spazzare, la sfera arriva sul secondo palo a Loreto che ha tutto il tempo per controllare e battere frattali. Entrano Lolo e Minelli e il Bari passa al 3-5-2 che non porta altro che al terzo gol della Turris. Nel recupero Alma lascia sul posto un Sabbione decisamente sotto tono e fa partire la festa, per i biancorossi pugliesi invece è notte fonda.